Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo dello standardo segreto della settimana numero 4 di questa season, 7. Ragazzi forse non l'avete ancora vista ma ecco qua l'immagine che ci verrà data la schermata di caricamento una volta completate tutte le sfide. Vi ricordo ragazzi di guardarla bene e mentre la guardate bene di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere nessun update. L'avete visto ragazzi dov'è? Non l'avete ancora visto? Ve lo faccio vedere io ragazzi, guardate un po', prott, sappiamo la posizione esatta del nostro banner segreto. Quindi ragazzi come vi avevo già anticipato, come avete appena visto, si va verso Borgo Allegro, la posizione esatta del banner segreto è dove c'è la casa vicino al campanile. Siamo praticamente arrivati, meravigliosa intanto, meravigliosamente brutta la skin di oggi, la posizione esatta ragazzi sarà proprio qua sopra, vicino alla finestra. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!